Ciao ragazzi ed eccoci finalmente alla recensione di questo numero 380 con questa super copertina particolarissima vedremo se il volume ne va alla spesa anche di storie ed eccoci dunque alla recensione di questo numero like subito o commento in quanti siete in questa situazione perchè chi magari ha preso sia la rossa che la blu e chi è anche abbonato in tutto ciò quindi ho tre copie del suo numero come già spesso è capitato ma direi che questo numero merita più particolarità degli altri vista la copertina e vista la storia che c'è dietro purtroppo la mia copia da abbonato mi è arrivata storta perchè essendo che era così messa nel buco della lettere la copertina è di un cartoncino leggermente differente e quindi mi è arrivata così però probabilmente terrò da collezione e quindi questa dunque analizziamo con piacere questa bellissima copertina nonché questo volume di topolino un utente mobile canal mi ha chiesto se la carta, la qualità è cambiata io non vedo cambiamenti non lo so, mi ha fatto venire il dubbio però eh anzi se qualcuno pensa che sia cambiata la carta me lo dica perchè in effetti mi ha fatto venire il dubbio comunque ma qualcuno si ricorda degli italici paperi? quinto, quo, che quarto dal 3 settembre su topolino wow, un qualcosa ispirato al medioevo italiano insomma, anzi prima del medioevo etruschi, sanniti, picceni con qui, quo, qua molto bene mi intriga, mi interessa chissà chi sarà i disegni, chi sarà la storia non ne ho idea, non lo posso proprio immaginare questo è Alex Vertani che ci dà una grande notizia ovvero che pa per sera continuerà la sua corsa dunque non si fermerà il numero 8 ma andrà avanti mi auguro almeno fino al 10 a questo punto dato che anche lui dice fino a quando sarà possibile recuperare nuove storie da pubblicare quindi come posso immaginare che sta per terminare quel mondo di storie che ne avevano tanta all'inizio ovviamente ora invece comincia un po' a svilire Dio Paperone e il business itinerante prima parte, seconda Papa e Brigge, Pippo Spot una storia di rota con Paperino e Fast Track Mickey ultima puntata questo è l'indice ma guardiamo meglio insieme appunto le storie Dio Paperone e il business itinerante Palazzi, Sarda e Cavazzano disegni che ovviamente si rispecchiano in quello che è il maestro Giorgio Cavazzano una storia che ovviamente mette a dura prova i nervi dei due antagonisti per eccellenza Dio Paperone e Rockerdak nell'andare in quella che è una località sperdutissima ovvero il Tant Longson come è che si chiama? eccola qua il Tant Lontanson che è una località che è appunto sconosciutissima e il compito di entrambi è chi riesce a vivere un'avventura più interessante o chi riesce a inventare qualcosa di più utile in questo Tant Lontanson ha addirittura due parti la storia vi faccio vedere anche un po' i disegni quindi ci sta che comunque siamo terminate sia la prima che la seconda direttamente qua perché comunque non è nulla di particolare come storia ma è una storia diciamo un po' la qualunque la di Paperone guardate che bei disegni questi li incornicio come i più bei disegni di questa storia con l'aurora boreale che non è che mi faccia impazzire ma le ombre il chiaroscuro che crea sui due paperi assolutamente quindi devo dire comunque una storia carina assolutamente ma nulla di epocale qualcosa di già visto insomma la classica il classico avvicendarsi fra i due paperi anche se le matite di Cavazzano ovviamente rendono tutto molto più piacevole alla vista ovviamente potete immaginare come vada a finire ma non voglio troppo spoilerarvi continua Paper Bridge dove Marco Gervasio soggetti sceneggiatura e disegni fa tutto lui e si perché continua quella che è l'avventura di boh Fantomius Junior ancora non capiamo bene se in effetti sarà così o meno insomma di Duckett ma non sappiamo ancora se è John se è quindi il nostro Duckett il nostro futuro Fantomius oppure è un parente un fratello un gemello un familiare non lo sappiamo ancora io penso però che sia Fantomius per tanti motivi continuo quindi l'avventura di Duckett e Quackett che è il suo amico Tom e scopriamo per la prima volta anche un po' le ragazze che poi avranno un ruolo fondamentale nella vita di Fantomius soprattutto lei quindi poi pian piano si arriva a a creare sempre di più quella che è la lore di Fantomius infatti qua Fantomius dice incantato io mi chiamo stava per dire il nome e poi succede un patatrack proprio del suo amico vabbè causato da un'altra persona quindi questa luna di mistero nei confronti del nome dell'identità ufficiale di Duckett mi lascia un po' perplesso onestamente bei disegni Marco Gervasio riesce veramente in Fantomius a dare il tutto e per tutto per carità molto bravo anche questo proprio Nick però Fantomius ha proprio quel disegno che solo lui ha io adoro Fantomius tante volte per le trame non sempre ma tante volte e poi per i disegni che sono ovviamente sempre suoi quindi Gervasio sa ormai ben collocare la trama con i suoi disegni non vi dico non vi dico altro perché sarebbe spoiler le storie appuntate cerco di darvi dei piccoli dettagli ma senza darvi troppi spoiler appunto Pippo Spot con tutte le vacanze li dicono col buco penso che questa sia la storia più ben disegnata del volume perché per quanto a me Coppola non mi faccia a volte impazzire come copertinista come disegnatore su vignette e su tavole su una storia ci va la grande secondo me è un tratto pulito grosso perché disegna molto grande difficilmente vediamo tavole un po' come questa un pochino più dettagliata un pochino più più grande ma guardate che bei dettagli mi piace un sacco questa tavola ma come tante altre comunque di cosa parliamo parliamo di Pippo ovviamente in questa ricerca dell'inventario è qualcosa di strano e inventa quello che appunto dal nulla sembra essere un materasso con sei buchi nel frattempo Dopolino deve andare in vacanza con i nipotini in tipetap ma non ci vanno perché non li sono a prenotare nulla quindi Pippo si farà carico inconsapevolmente di prendere i nipotini e farli divertire grazie a questo materasso da farcire col ripieno di clienti che diventa poi proprio qualcosa da sponsorizzare quindi Pippo è riuscito a creare qualcosa di veramente interessante vi ripeto i disegni sono bellissimi io li adoro Coppola devo dire che dà il meglio poi anche la sua trama quindi mi piace quando gli autori fanno sia trama che soggetto che disegni Paperino e il castello Contranello una storia di Paul Halas e Marco Rota per i disegni di quest'ultimo una storia del 2009 quindi ormai di undici anni fa almeno così c'è scritto qui una storia che posso dirvi che mi è piaciuta sì e no perché comunque sti che parliamo di Rota è un con quelle classiche storie in cui i Paperi si confondono con gli umani quindi già però non è questo motivo perché non mi è piaciuto ma non mi è piaciuta tanto proprio la trama perché in pratica Paperino scopre o meglio riesce a comprare anzi ad ottenere più che comprare con pochissimi soldi quelli che sono un castello quello che è un castello un castello che vige in cui vige quello che è questo custode oltre che essere di fama un castello con insomma fantasmi vedo non vedo qualcosa che si muove quadri che si muove insomma un castello non proprio per tutti però cela dei misteri anche per un antenato possibile di Paperino non vi dico altro è una storia che boh mi ha lasciato un pochino così ecco non è che mi ha proprio entusiasmato e finalmente dico finalmente Fast Track Mickey finisce con l'ultima puntata viene detto pure qua in effetti il finale lo ha forse poi vi dirò il perché Gedo Cenejadurra disegni supervisione colore e atmosferi di Claudio Sciarrone ha fatto tutto lui io ho adorato per otto settimane perché ne uscivo un ogni due la prima pagina di ogni Fast Track Mickey perché era proprio sempre una splash page con Topolino che ci guardava fisto è un tratto che allora voglio tutto analizzare di Fast Track Mickey la trama mi è piaciuta un sacco ok non vi darò alcuno spoiler di quello che accade adesso assolutamente la sceneggiatura e i disegni sono altrettanto belli molto particolari il man Sciarrone ha preso una via che è sua si è tolto dalla massa e ora è un disegnatore a tutti gli effetti le atmosfere bellissime perché anche se non voglio farvi spoiler voglio farvi vedere questo tipo di cose cioè in queste pagine non sembra manco di legge Topolino perché se non sai che in quelle macchine ci sono gli agenti di Topolinia o Topolino stesso non te lo aspettaresti mai quindi ho adorato questa dinamicità ora non voglio farvi spoiler assolutamente ma guardate queste tavole senza leggere guardatele che figata sono veramente veramente belle quindi Sciarrone è riuscito a curare qualcosa di di meraviglioso il finale allora torno un po' alla prima pagina per darvi comunque un pochino da vedere il finale sembra chiuso potenzialmente lo è però come l'impressione che effettivamente ci può essere un un collegamento futuro per un'eventuale altra storia chissà vabbè comunque magari sarà oggetto di discussione vedremo insomma vedrà un po' lui se ha senso che continui o meno e questo era il topo di questa settimana questa è la copertina molto bella del prossimo numero del 3381 fantastico in cui avremo Topolinia Giramondo che sapete che io adoro quella serie lì Continua Paperbridge Storia Papera che speriamo che si riveli come la settimana scorsa molto interessante Vita da Rock Band con Tippet Up e Zio Paperone e consigli proficui la copertina di questo volume ovviamente di Frecciero voglio farvi vedere cosa esce pure questa settimana perché esce Grandi sfide un volume che in tanti mi ha detto perché non lo compro perché sono quei ristamponi che poi vanno a finire nel insomma dopo dopo qualche anno a vendersi almeno per quanto mi riguarda quindi non voglio più cascare in questo tranello poi non so quanto abbia vita lunga questo quest'opera 100% Oriente è un qualcosa che non mi interessa ma allo stesso tempo mi intriga ma è proprio la testa che non mi interessa Paperinic guardate che bella copertina ma c'è quel trillo giallo che io non sopporto e quindi non lo comprerò solo per sì avete capito bene solo per quel trillo giallo sono proprio strano io ma mi dà proprio fastidio poi non la colleziono però la a volte le comprerei perché Mottura sa fare disegni bellissimi ma altri legiali non mi piacciono e poi Paper Sierra il numero 8 che comprerò ora non so quando uscirà onestamente ma ci farò poi anche la recensione e niente questo era tutto vi lascio leggere la vignetta finale di Ciccio di Enrico Faccini eccola qua molto carina e simpatica allora cosa posso dirvi sicuramente val la spesa val la pena di comprare il volume per tanti motivi uno perché c'è l'eventuale notebook due perché ha questo sbrilluccico tre perché continua Paperbridge e finisce Fast Track Mickey insomma non si può non comprare per tanti motivi allo stesso tempo se c'è qualcosa non lo so guardando l'indice non tutto mi ha emozionato insomma la storia sui paperone ho un po' controanello e Paperbridge devo ancora capire tante cose quindi quello che porta avanti questo volume in positivo per me almeno nella mia opinione sono le proprie storie sui topi quindi sapete io che ho una passione verso di loro e quindi bene vi ricordo sempre che in fumetteria trovate un'altra variant mentre sul sito un'altra ancora non ci farò un video penso ma sapete che io le comprerò poi comunque devo dire che mi piace collezionare il topolino col gadget potete tenerlo chiuso avere tante copie quando poi la copertina è anche così carina per oggi è tutto ragazzi e ci vediamo nella prossima recensione ciao ciao